Sequestri per equivalenti alle imposte vase per 214 milioni di euro, 232 i datori di lavoro individuati quali utilizzatori di manodopera in nero e irregolare. Per le prestazioni sociali agevolate e ticket sanitari sono state verbalizzate 482 persone. Sul fronte della criminalità organizzata l'obiettivo è colpire gli interessi economici delle Endrine e i sigilli al loro patrimonio ammonta 800 milioni di euro. E' il bilancio dell'attività svolta dalle fiamme gialle nel 2015, con un'attività di controllo che si è concretizzata nello sviluppo di indagini di Polizia Giudiziaria, nell'esecuzione di approfondimenti su input della Corte dei Conti e nella realizzazione di campagne di controllo nei confronti di beneficiari di prestazioni socioassistenziali, con lo scopo comune di contrastare le forme più gravi di truffa, frode e sperpero di denaro pubblico, garantendo la corretta destinazione delle risorse rispetto agli obiettivi fissati dalla legge. Ammonta 21 milioni di euro la frode accertata nella spesa previdenziale, con 3.100 persone denunciate. Il valore dei danni erariali accertati ammonta a 473 milioni di euro, 1.500 le persone denunciate alla Procura regionale della Corte dei Conti. Gabriella Passariello per la Cinius 24. 1.500 le persone denunciate alla Corte dei Conti. 1.500 le persone denunciate alla Corte dei Conti.